un saluto cari amici di extreme hardware finalmente è arrivato il sole fa caldo e cogliamo l'occasione per fare questa video recensione all'aperto parliamo dunque di asustore con il suo s3202 t un nuovo nas dual bay prodotto e commercializzato per le utenze domestiche e le piccole e medie imprese un prezzo di circa 300 320 euro quindi non molto contenuto a dire la verità contando che non ci sono i dischi inclusi ma asustore ci ha abituato a prodotti di fascia veramente molto elevata e dalla qualità ineccepibile il processore intel quad core celeron a 1.6 gigahertz e 2 gigabyte di ram ddr 3l dovrebbero garantire performance di tutto rispetto per questo s3202 t l'azienda infatti dichiara velocità di trasferimento superiore a 110 megabyte al secondo sia in fase di lettura che in fase di scrittura per quanto riguarda la configurazione raid 1 grazie appunto anche a queste caratteristiche hardware non dovremmo avere assolutamente problemi per quanto riguarda lo streaming video dei nostri contenuti in alta definizione è dotato anche di una porta hdmi 1.4b per poterlo collegare al vostro televisore farlo diventare un multimedia center di primo ordine abbiamo la porta rj 45 e ben tre porte usb 3.0 mancanza totale di porte usb 3.1 porte che iniziano a vedersi anche in prodotti di questo genere altro aspetto non da sottovalutare è la possibilità di installare i dischi all'interno del prodotto senza assolutamente utilizzare viti e carciaviti quindi un prodotto tool less andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche estetiche di questo prodotto andremo a vedere poi come installare appunto un disco all'interno della s3202 t faremo la prima configurazione insieme e parleremo un po di queste performance provate sul campo per tutto il resto ovviamente vi rimando alla recensione scritta che trovate qui in descrizione sotto il video la confezione della s3202 t è la classica di asus sul frontale troviamo l'immagine del prodotto un riquadro azzurrino riportante il modello del prodotto stampato caratteri cubitali e le informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto in basso invece troviamo delle icone relative alle feature dello stesso sul laterale trova posto invece un esempio dell'utilizzo del prodotto tramite accessi esterni e condivisione di file multimediali sul retro della confezione troviamo le caratteristiche tecniche del prodotto scritte multilingua tra le numerose lingue disponibili asus ora inserito anche l'italiano sul lato invece l'azienda ci ricorda che tramite lo store del nostro cellulare possiamo scaricare le applicazioni relative al prodotto e poter fare l'accesso e usufruire dei servizi tramite il nostro smartphone all'interno della confezione a parte il nas troviamo il trasformatore di corrente relativo cavo di alimentazione un cavo laner j45 le viti per il serraggio dei dischi e un dvd contenente il manuale in digitale e il software per l'installazione del prodotto esteticamente la s3202 t ci ricorda molto la s3104 t visto in precedenza sulla parte frontale trova posto il logo asustore una porta usb 3 con relativo tasto di copia 4 led di status e una trama in plastica in rilievo che dona un effetto piacevole sia alla vista che al tatto al prodotto non abbiamo sportelli né bei estraibili sul retro del prodotto trovano posto tutti i collegamenti di cui abbiamo bisogno abbiamo il tasto di accensione il tasto reset due porte usb 3 il collegamento hdmi la porta gigabit lan il plug per l'alimentazione il kensington lock una ventola posta in estrazione due viti per aprire il case di installare il disco o i dischi indispensabili al funzionamento del prodotto stesso installare i dischi all'interno dell'asustore s3202 t è un'impresa molto molto semplice allora come prima cosa sul retro del prodotto troviamo due viti nella parte centrale svitiamole tutta l'operazione volendo è effettuabile senza l'utilizzo di carciaviti infatti viene venduto come oggetto tool less una volta svitate le due viti facciamo scivolare all'indietro la parte alta del prodotto che è anche la parte più larga e rimuoviamo la copertura ci troviamo a questo punto con lo scheletro del nostro as3202 t possiamo tra l'altro notare all'interno del prodotto stesso il dissipatore che copre il processore intel quad core la batteria tampone e le altre componentistiche di sistema allora prendiamo i nostri dischi e inseriamoli esattamente come faremmo all'interno di un computer disco numero uno e disco numero due all'interno del bando l'abbiamo visto che vi sono le viti per serrare i dischi apriamo la piccola confezione di plastica prendiamo le viti ed avvitiamo i dischi adesso io non metterò ovviamente tutte le viti per una questione di tempo perché a voi probabilmente non interessa nulla una volta inserite le viti e serrate i dischi richiudiamo il coperchio ovviamente nella maniera opposta e reinseriamo le due viti che abbiamo tolto inizialmente il prodotto adesso è pronto per essere utilizzato potete collegarlo alla corrente e alla porta lan allora come prima cosa per configurare il nostro asustore as 3202t abbiamo l'asustore control center che possiamo scaricare direttamente dal sito internet del produttore una volta installato ed avviato il prodotto notiamo come lo stesso troverà il nostro nas sulla rete vedete che c'è lo stato non inizializzato possiamo premerci sopra e verrà avviata la pagina di inizializzazione che non è nient'altro che l'indirizzo ip del nostro nas sulla rete si apre questa pagina wizard in inglese ci sono varie lingue tra cui italiano scegliamo l'italiano attendiamo che cambi la lingua e clicchiamo su configurazione personalizzata inseriamo la password per l'amministratore in questo caso la lascio normale impostiamo fuso orario data e quant'altro cerchiamo più uno possiamo configurare qui invece le impostazioni di rete quindi possiamo mettere manualmente l'indirizzo ip o lasciare che il sistema gestisca in automatico questa impostazione quindi dhcp o indirizzo ip manuale ora qui possiamo scegliere che volume installare all'interno del nostro nas quindi abbiamo i due hard disk installati possiamo scegliere che tipo di ride effettuare quindi ride 0, ride 1 o j-bod oppure lasciare i due dischi singoli proviamo con un bel ride 0 selezioniamo i due dischi confermo di aver letto e compreso quanto sopra e andiamo avanti attendiamo dunque che il sistema ok una volta ultimata l'installazione la pagina ci chiede di registrare il nostro prodotto quindi registrarlo sul sito di asustore noi in questo momento non lo facciamo e andiamo avanti adesso grazie per esserti registrato anche se non l'abbiamo fatto e il procedimento è finito ora se appunto essendo la prima volta io ve l'avevo già fatta questa questa operazione è probabile che vi chieda di installare il il firmware del sistema per farlo se ve lo chiede potete scaricarlo direttamente dal sito del produttore o fare la installazione automatica il sistema installa automaticamente il firmware più aggiornato e quindi anche l'ultimo sistema operativo rilasciato da asustore quindi siamo all'interno del nostro prodotto possiamo accedere e andare a creare le varie cartelle di sistema andiamo nelle impostazioni qui accanto vedete c'è la gestione di tutte le impostazioni del nostro del nostro sistema per l'appunto la rete l'hardware notifiche e quant'altro andiamo a cercare file explorer vedete qui ci sono le tre cartelle che si creano in automatico e queste sono le cartelle ovviamente potete crearne delle altre all'interno delle quali inserire i vostri i vostri documenti e i vostri file multimediali bene abbiamo dunque visto le caratteristiche tecniche dell'asustore as3202t abbiamo visto esteticamente come è fatto come installare un disco all'interno del sistema e come configurarlo per poterlo utilizzare parliamo velocemente delle performance abbiamo prestazioni elevate come di consueto ormai asustore ci ha abituato a degli standard molto elevati superiamo i 100 megabyte al secondo in fase di trasferimento ovviamente tutti i dettagli saranno all'interno della recensione completa che trovate nel link in descrizione dobbiamo menzionare ovviamente i pregi che abbiamo riscontrato utilizzando la porta HDMI 1.4b che è appunto integrata all'interno di questo prodotto abbiamo fatto girare dei sample in 4K con codec H265 quindi H e WC ultimissima generazione pesanti il sistema tramite l'applicazione Kodi è riuscito a gestire perfettamente questi video e quindi se siete in possesso di una televisione 4K e volete godere a pieno dei vostri film di ultima generazione con questo prodotto potete stare tranquilli detto questo appunto vi rimando alla recensione completa che trovate qui sotto in descrizione vi esorto a lasciare commenti e iscrivervi sul nostro canale di youtube e a seguire il nostro portale extremehardware.com dove troverete numerosissime altre recensioni da Angelo e dalla redazione per adesso è tutto un saluto alla prossima grazie a tutti